Uno spettacolo toccante, un momento di riflessione e di emozione. Ieri sera al Teatro Augusteo di Salerno, la città in occasione della giornata internazionale della donna ha voluto ricordare le 26 migranti nigeriane morte nel loro viaggio verso l'Italia, le cui salme sbarcarono nel novembre scorso. Lo ha fatto con uno spettacolo, 26 come in mare così in terra, promosso dall'ordine dei giornalisti della Campania, con il patrocinio del comune di Salerno. Tutto esaurito per la rappresentazione nata dal lavoro di 55 giornalisti del territorio, che ha raccolto quasi 5.000 euro a sostegno dello sportello di ascolto Centro Antiviolenza di Genere Artemisia del pronto soccorso dell'ospedale cittadino San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Sul palco 26 giornaliste che hanno interpretato con patos e grande trasporto i monologhi iscritti dai colleghi. Un riscontro stra-positivo, il Teatro Augusteo era pieno, abbiamo lasciato molte persone purtroppo fuori, però non c'è problema perché ci sono le registrazioni e il sindaco insieme ad Ottavo Lucarelli ha pensato bene proprio ieri sera di trascrivere i testi e poi di pubblicarli. Salerno è una città di accoglienza, è una città che ha fatto tanto, è una città che grazie a Rosario Calurio, scomparso pochi mesi fa, ha dato l'esempio non solo alla Campania ma all'Italia tutta.